Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Video scoperte preferiti amati beauty del periodo, mi concentro sulla skin care in questo video, poi farò anche il video dei preferiti degli amati make up perché sto provando, utilizzando un po' di prodotti in questo periodo, quindi avrò un po' di cosine di cui parlarvi. Inizio, spero come sempre che il video vi possa piacere, nel caso non dimenticate di lasciarmi un like, un commento, di iscrivervi al canale e di venirmi a trovare anche su Instagram. Iniziamo dalla detergenza, forse ve ne ho già parlato ma ve lo ricito perché è veramente favoloso, è questo olio struccante di Codalie della linea VinoClean, in questo flacone da 150 ml con il dosatore a pump che trovo sempre molto comodo. è un ottimo olio struccante per quanto riguarda il viso, per quanto riguarda gli occhi io mi strucco tendenzialmente sempre con uno struccante occhi, acqua micellare perché olio struccante, burro struccante, spesso o mi fanno bruciare gli occhi o me li appannano, quindi non mi fido, io resto fedele ai miei soliti prodotti per quanto riguarda gli occhi. e anche in questo caso vi devo dire che utilizzato sugli occhi me li fa bruciare, me li appanna terribilmente, quindi io non lo utilizzo sugli occhi ma per il viso strucca bene, è delicatissimo, lascia la pelle morbidissima, quindi per il viso è veramente ottimo. credo che faccia bruciare anche gli occhi perché a base di olio di ricino è olio di mandorle dolci e l'olio di ricino so che può far bruciare gli occhi e anche in questo caso vi assicuro che è così ma soprattutto appannati, me li ha appannati completamente anche per un pochino. mi sono rimasti un po' appannati tanto che insomma a un certo punto mi sono quasi spaventata perché rimanevano appannati, quindi davvero mai più sugli occhi, però sul viso ripeto è veramente un prodotto favoloso che mi piace tantissimo. ho scoperto poi una mousse low cost favolosa, dopo quella di Balea, anche questa mousse low cost è eccezionale al pari di altre mousse più costose, se non migliore anche di mousse più costose ed è quella della linea Astra Skin. questo è finalmente il primo prodotto della linea Astra Skin che mi piace, ho già provato sapete il tonico, ho provato anche il siero e sfogliante, non mi sono piaciuti, la mousse è veramente favolosa, dice che è delicata, deterge e purifica con estratto di mirtillo, acido ialuronico adatta a tutti i tipi di pelle con 97% di ingredienti di origine naturale ed è verissimo che va proprio a purificare, sentite proprio che pulisce la pelle in profondità purificando, ma allo stesso tempo la lascia morbidissima, che non tira, non secca, è favolosa, poi anche questo colore azzurrino è molto carina proprio anche da utilizzare e da vedersi, ma è veramente ottima sulla pelle, questa direi che può diventare benissimo mai più senza perché costa poco ed è eccellente. Per i tonici sapete che sto amando tantissimo quello di Unica, la rosa di Skincare Coreana, questo favoloso di Colerings e il Glow Dark Spot Toner, è un tonico a base di alfa idrossiacidi, con acido glicolico, sfogliante, ve l'ho già detto, ve lo ripeto, è fantastico, se volete un prodotto di questa tipologia provatelo, va a fare proprio un'esfoliazione, che c'è, che si nota, che si vede, ma allo stesso tempo non eccessiva, rimane comunque abbastanza delicata, anche se sentite comunque il prodotto che agisce, è ottimo, avete proprio la pelle poi più luminosa, più bella, più compatta, ottimo tonico. Col contorno occhi come creme, anche qui non ho novità, quindi vado molto veloce, questa di Skincare Coreana, di HC, che mi ha inviato il sito Stilevana, sapete che ho un codice sconto, se volete fare ordini sul sito, che vi lascio sempre scritto in infobox, e questo è forse il prodotto migliore per ora che ho provato, insieme al tonico di Unique, che ho utilizzato dei prodotti che mi sono stati inviati, è la crema contorno occhi Outlasting, veramente ottima, vedo il contorno occhi proprio bello idratato, disteso e illuminato, e sapete che trovo molto simile come effetto, che mi piace tantissimo, anche la crema contorno occhi di Sephora, l'acido dialuronico, la Brightening Eye Cream, anche questa texture fresca, non pesante, ottima come base pre-makeup, ma che tiene idratato il contorno occhi tutto il giorno e dona una bellissima luminosità, quindi veramente due creme contorno occhi che sono state una scoperta favolosa, ve le consiglio entrambe allo stesso modo, mi piacciono tantissimo, anche adesso per la bella stagione che arriva, queste sono perfette, perché idratano senza appesantire, quindi favolosi. Passiamo ai sieri, e qui ho delle novità molto interessanti, allora innanzitutto mi sta piacendo il siero la Niacinamide di Deorinary, tanto non mi piace quella l'acido dialuronico che vi ho messo nel video dei bocciati, tanto trovo decisamente valido, questa è la Niacinamide, con il 10% di Niacinamide e l'1% di Zinco, forse dovendo proprio scegliere, preferisco ancora di più quello di The Inkey List, quello l'ho trovato proprio favoloso, ma anche questo non è affatto male, ha sempre una consistenza un po' densa, gelatinosa, come il siero l'acido dialuronico, però quando lo applico questo siero io vedo una differenza, vedo l'efficacia del prodotto, mi aiuta innanzitutto a tenere proprio sotto controllo anche le imperfezioni, anche sotto periodo di ciclo, perché la Niacinamide aiuta proprio anche in questo senso, sembro regolarizzare la pelle, ma allo stesso tempo ha tante proprietà, quindi è veramente un ingrediente che mi piace tantissimo trovare all'interno dei prodotti e anche questo funziona, io ve lo consiglio comunque, questo secondo me è un buon siero, soprattutto rapportato al prezzo, alla Niacinamide, poi ultimamente ho scoperto e ho iniziato a utilizzare anche questo booster di Neutrogina, è il Supercharged Serum, è praticamente questo siero booster, quindi questo si può utilizzare sia da solo come siero, o si può anche utilizzare come booster magari insieme a una crema, se si vuole potenziare l'effetto, avere una maggiore idratazione, e vedete che ha tutte queste microcapsule in sospensione, è carinissimo da vedersi, e mi piace perché questo anche sempre in vista della stagione calda mi sembra un prodotto ottimo, perché mi dà un po' di idratazione, rimane fresco, si assorbe bene, è proprio come un bicchiere d'acqua un po' per la pelle, e quindi anche questo è un bel prodotto che non costa tantissimo, lascia un pochino la sensazione di pelle appiccicosa, che è scoperta invece purtroppo, perché vi ho provato in mini size questi due sieri di Drunk Elephant, in particolare questo col tappino azzurro, che è il siero B Hydra Intensive, quindi è il siero idratante, con ceramidi, provitamina B5, questo è meraviglioso, è un siero che va proprio a idratare la pelle, lo sentite, è un bicchiere d'acqua per la pelle, la lascia proprio subito più morbida, più idratata, più bella. Da come lo applicate, secondo me, ve ne innamorate, mi è piaciuto tantissimo, mi sta piacendo tantissimo, peccato che è piccino e credo che ormai sia praticamente terminato, ma pur essendo una taglia così piccola, ed avendo di solito bisogno di un po' di tempo, comunque per apprezzare gli effetti dei prodotti skin care, questo mi ha colpito proprio subito, devo dire che non è niente male neanche il siero alla vitamina C, sempre di Drunk Elephant, si firma dei serum, 15% di acido ascorbico e con estratti di zucca, è proprio un colore infatti arancione, ma bello, insomma, un colore bello intenso, e mi piace perché questo illumina tantissimo la pelle, dà proprio subito un aspetto più luminoso alla pelle, non è la texture che in questo caso preferisco perché rimane anche lui un pochino appiccicosino come sensazione, poi nulla che non si risolva applicando gli altri prodotti, diciamo che su questo non investirei i soldi che costa un prodotto di Drunk Elephant perché è un buon serum, ma trovo che ce ne siano tanti altri validi, questo mi ha veramente conquistata. Per consigliarvi invece delle ampolle da prendere di Balea Aldem, vi consiglio queste, della linea Beauty Effect, sono a base di acido ialuronico, trattamento lifting, ottime. Queste sono quelle che mi sono piaciute di più tra tutte le ampolle che ho provato di Balea, queste proprio le apprezzo quando applico il prodotto all'interno, sento, noto la differenza, quindi queste vi consiglio vivamente di provarle anche perché sono appunto delle ampolle che non hanno un prezzo eccessivo, ci sono, sappiamo, ampolle che costano, quindi se se ne trovano anche di economiche valide, non è affatto male. Poi ho qui due prodotti molto costosi, questi li avevo trovati con Look Fantastic nelle box nei calendari, me ne sono innamorata. Una è la crema giorno, la Illuminating Day Cream di Havan e l'altra è la Revitalizing and Firming Mask, quindi la crema giorno e la maschera viso in crema, entrambe di Havan. Queste sono due full size da 50 ml, che penso costano abbastanza, ma sono veramente ottime entrambe. La crema giorno è meravigliosa, vi lascia la pelle idratata, morbidissima, ma allo stesso tempo, per dare così tanta idratazione, è una crema che ha una consistenza comunque non pesante, non grassa, non unta, non ricchissima, ha proprio una giusta consistenza, si assorbe bene, non è per nulla pesante, va benissimo come crema giorno anche pre-makeup, mi piace da impazzire, sia la texture, sia proprio come l'assorbe la mia pelle e la sensazione che lascia. È meravigliosa questa crema, è arricchita con acido ialuronico, olio di jojoba, avocado, ottima, veramente ottima. E questa penso sia la maschera in crema che più mi sia piaciuta tra tutte quelle che ho provato, sapete che di solito preferisco quelle in tessuto perché quelle in crema non fanno granché su di mano, non noto delle differenze rispetto a quelle in tessuto, questa è veramente ottima. A parte che è a base di rosa e ha proprio anche questo colore rosa, non so se si vede, ma ha questo colorino rosa e ha anche una consistenza quasi in mousse, proprio soffice quando l'applicate, non so se riesco a farvi vedere, no, si illumina, fa tutto il riflesso con le luci, però ha anche una consistenza piacevolissima, tra l'altro è una maschera che dice che non deve essere resciacquata, io poi vado a togliere i residui, gli eccessi che rimangono, ma la tengo finché proprio la mia pelle non se l'è assorbita completamente ed è forse l'unica maschera in crema che mi fa l'effetto di una maschera in tessuto, sento proprio la pelle bella idratata, bella morbida, proprio rivitalizzata, come dice, è favolosa. Sono prodotti molto costosi, ma se vi capita di provarli, queste sono eccezionali, non ve ne pentirete assolutamente. Crema, viso, notte, nivea, che vi consiglio anche qui vivamente di provare, tra l'altro in questo caso parliamo di un prodotto che ha un prezzo assolutamente contenuto, boccio solamente il pack che come potete vedere è assolutamente terribile, perché questo tubetto illatta ed è un macello poi, man mano che si utilizza, si accartoccia tutto e tra l'altro dal beccuccio continua a fuoriuscire il prodotto, quindi devono modificare il pack perché la crema è favolosa ed è la linea Q10 Plus C, antirughe energizzante, crema notte per pelle spenta e per rughe sottili. Anche questa è una texture che mi piace moltissimo perché si assorbe bene, idrata, ma non assolutamente pesante, non vi lascia la pelle appesantita, anche se è una crema per la sera, ecco non vi trovate unte al mattino, quindi è perfetta anche per la bella stagione da utilizzare alla sera, dona una bellissima luminosità alla pelle, contiene poi Q10, antirughe energizzante, aiuta la pelle a respirare più profondamente, dona una nuova esplosione di energia, è vero, trovo proprio che lasci la pelle più luminosa, più bella, più vitale, insomma. Una bellissima crema low cost, penso che si possa trovare solo ed esclusivamente su Amazon, io non l'ho mai vista da nessun'altra parte, infatti l'ho acquistata su Amazon, ma è una bellissima crema. Poi, per concludere, ultimi prodotti, io sto amando tantissimo, questo in realtà si può utilizzare anche come primer, ve ne parlo qui perché è un olio idratante viso di Mulac, il Flow Mix, questo è un olio che sto utilizzando anche adesso, che la mia pelle non è più così secca, quindi tendenzialmente non utilizzo più l'olio, quando al mattino magari applico solamente il siero e non applico la crema, sono di fretta, metto solamente lui come base viso, quindi mi fa, insomma, proprio da skin care e allo stesso tempo anche da base, poi per il fondotinta, e non vi dico come migliora la performance del fondotinta, tra l'altro ho scoperto una combo favolosa, lui insieme al Dior Forever nella versione classica matte, è una favola, perché questo ha un fondo tra bellissimo di suo, più sul versante opaco, quindi se si ha la pelle magari un po' più secca, può comunque tendere a evidenziare un pochino le pellicine, insieme sono una bomba, sono stupendi, perché, ripeto, lui è già uno dei miei fondi preferiti di sempre, abbinato a lui quando magari ho qualche secchezza o qualche pellicina, una meraviglia, una meraviglia assoluta. Poi, per terminare, vi parlo di due prodotti labbra, uno è questo balsamo labbra di Vichy, io ogni tanto ve lo menziono, perché, insomma, mi piace tantissimo, è il Natural Blend, è questo balsamo labbra colorato, come se fosse, non so, un poco love di Clio, ed è nella tonalità, adesso non lo so, ma è quella color ciliegia, color, sì, un ciliegia, un fragola, è un bellissimo colore, pink, colore pink, vedete, ha proprio questo colore ciliegia, bellissimo sulle labbra, perché dà proprio quell'effetto di labbra rossate, bellissimo, è proprio come dopo aver mangiato delle fragole o delle ciliegie. Poi, man mano che comunque il prodotto va un po' via, si perde l'effetto un po' più luminoso del balsamo labbra, lascia comunque questo colore ciliegia sulle labbra, come se fosse una tinta labbra, quindi anche se, non so, poi dovete mettere la mascherina e mettete questo balsamo labbra, vi rimane poi il colore comunque ciliegia del prodotto labbra, come se avesse proprio messo una tinta labbra. Quindi a me piace tantissimo, tra l'altro lascia proprio le labbra morbide, idratate, bellissimo, bellissimo, balsamo labbra colorato. Per concludere, vi menziono questo prodotto di Clarenne, il Natural Lip Perfector, che ho scoperto ultimamente insieme a voi in un video, ma è davvero favoloso, me ne sono innamorata da come l'ho provato. Questo è una sorta anche qui di mix tra trattamento labbra e make-up, perché vedete che vi dà questo bel colore comunque alle labbra, questo è un colore nudo rosato, mi piacerebbe prendere anche altre tonalità, ed è bellissimo perché sembra una sorta di gloss, perché dà un aspetto comunque lucido e glossato alle labbra, ma allo stesso tempo appunto dà colore e le lascia morbide, idratate, ed effettivamente è un Lip Perfector, le va proprio perfezionare perché quando le applicate le labbra sono proprio più belle, dà un effetto disteso. Secondo me è una vera chicca che ho scoperto perché avevo questa mini size, la trovate in un calendario dell'avvento, ma secondo me è veramente un bel prodotto di cui non si parla, non considerato, questa è la tonalità 01, io vorrà prendere sicuramente altre tonalità. Queste sono state tutte le scoperte beauty che ho fatto ultimamente, fatemi sapere se volete anche poi i preferiti e le scoperte make-up, spero come sempre che il video vi sia piaciuto, ci vediamo prestissimo se volete, vi mando un bacione grandissimo, alla prossima, ciao!